buongiorno a tutti giambito d'angelo diretta live dai mercati e oggi il focus vedete sul dollaro canadese perché perché il trend di fondo è vero e short parliamo del trend di lungo ovviamente ma vedere che il mercato da inizio febbraio fine gennaio praticamente da circa due mesi vedete sta creando e ha già creato possiamo dire vedete un bel pavimento vedete inizio febbraio vedete metà marzo e proprio due sedute fa vedete il mercato il 31 marzo ha fatto un bel hammer che ha dato luogo ad una accelerazione discreta nella giornata appunto vedete il primo aprile quindi qual è l'idea l'idea è che il mercato possa in qualche modo ancora cercare supporti o direttamente accelerare verso l'alto non ci aspettiamo che il mercato chiaramente torni su questi livelli ma ricordiamoci che su diretta live abbiamo una visione quindi not look all'incirca di 12 giorni quindi l'accelerazione ce l'aspettiamo in questo arco temporale e una discesa su livelli leggermente più bassi sarebbe un'occasione di acquisto sempre su conferma di pattern daily per cui occhio alert al dollaro canadese perché ci potrebbero essere delle bellissime accelerazioni che tra oggi e domani si potranno sfruttare ma notare che così in qualche modo arriviamo a pasqua flat e al tempo stesso con delle grandi soddisfazioni che c'è dal mercato un grande saluto buona pasqua a tutti gianvito d'angelo diretta live dai mercati alla prossima settimana per contattarmi potete chiedermi l'amicizia su facebook perché questo è il luogo dove normalmente interagisco con le persone che mi seguono oppure per chi non dovesse usarlo potete mandarmi un'email all'indirizzo che vedete in sovraimpressione vi ringrazio gianvito d'angelo a presto grazie